CEM, Centro Elevatori Milanese, ha il piacere di presentarvi il nuovo e rivoluzionario mezzo di trasporto, FlexiLoader. FlexiLoader, il furgone con pianale montacarichi, nato per rispondere a tutte le esigenze di distribuzione, renderà i vostri trasporti affidabili e flessibili, a prezzi vantaggiosi. Con questo video vogliamo mostrarvi come FlexiLoader risolverà tutti i vostri problemi di trasporto a corta e media percorrenza, limitando costi e tempi di esercizio. Il pianale montacarichi, allestito su furgone a trazione anteriore, potrà essere velocemente abbassato in orizzontale fino a livello stradale, garantendo comodità e sicurezza all'attività di carico e scarico. Premendo il pulsante di discesa, si azionerà il sistema idraulico che, in pochi secondi, porterà il pianale a livello stradale, rendendo così più semplice l'accesso e meno faticose le operazioni di carico e scarico. Una sola persona potrà collocare il materiale all'interno del furgone, senza incorrere nei consueti problemi di sollevamento. Premendo il pulsante di risalita, il pianale di carico ritornerà velocemente all'altezza normale di guida. Il volume di carico, pare agli standard di mercato, esaudirà ogni vostra esigenza grazie ai nostri accessori optional. Potrete così trasportare in tutta sicurezza carrelli, moto, mezzi per giardinaggio, casse forti e tanto altro ancora. Le molteplici varianti garantiranno il mezzo su misura alle vostre esigenze. Con l'allestimento CR Frigo o raffreddamento potrete trasportare cibi, bevande o medicinali. L'attrezzatura meccanica renderà il vostro furgone un'utile officina mobile. Nella versione studiata appositamente per il trasporto di persone, diventa un indispensabile aiuto per la discesa e la salita di invalidi su sedia rotella o lettiga. Su richiesta può essere allestito con due sedute interne pieghevoli e removibili, utilizzabili a seconda delle necessità, senza influire sul carico della lettiga o sedia rotelle. I fastidiosi problemi di continuo carico e scarico di attrezzatura pesante fanno parte del passato. Flexi Loader in tutta sicurezza garantirà velocità e sicurezza a tutti i trasporti. Vi basterà abbassare il pianale e spingere il materiale direttamente dal piano stradale. Il noleggio e il trasporto di piccoli macchinari non sarà più un problema. Non avrete più problemi per la distribuzione capillare alle vostre filiali. Flexi Loader è la soluzione rivoluzionaria a tutti i vostri problemi.